Bach lavorò come maestro cantore per questa chiesa per ben 27 anni, dal 1723 al 1750. Il maestro non aveva tempo per annoiarsi, doveva provvedere alla selezione musicale per tutti i culti di ben quattro chiese e doveva dirigere il coro lui stesso sia a San Tommaso che a San Nicola, l'altra chiesa storica. In più c'erano i funerali e i matrimoni e in ultimo c'era la musica da comporre per occasioni religiose e laiche e come se non bastasse doveva anche insegnare il latino ai ragazzi della scuola. Nonostante questo Bach ha creato opere che hanno trasformato la storia della musica, le passioni secondo San Giovanni e San Matteo, la messa in si minore, l'arte della fuga solo per nominarne qualcuna. E questi capolavori furono eseguiti proprio in questa chiesa all'Ipsia. Bach era un uomo profondamente credente. Su tutte le sue opere, non soltanto quelle religiose ma anche quelle laiche, scriveva all'inizio le lettere Ilunga Ilunga, Ilunga, Jesu Juva, con l'aiuto di Dio e alla fine SDGL, Soli Deo Gloria. Per lui tutta la musica suonata, in una sala di concerto o a caffè concerto e non soltanto quella suonata in chiesa, era una lode a Dio. In questo Bach appartiene a quel filone, a quella tradizione musicale risalente a molte generazioni prima di lui, che vede nella musica e nella sua armonia un inno a Dio. Nella chiesa evangelica la predicazione, la divulgazione della parola di Dio svolge un ruolo importante e la musica è anche divulgazione della parola di Dio. La musica ha lo stesso significato per la chiesa evangelica e anche per noi qui a Sant'Omaso della predicazione. Le cantate di Bach altro non sono che una predicazione in musica. Bach esprime il testo biblico. La musica fornisce uno sfondo o una delucidazione sul testo che nessuna parola, nessuna predicazione potrebbe mai dare. la musica fornisce uno sfondo o una delucidazione sul testo che n'avete lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti.